Quando ho acquistato questa piccola casetta, i ragazzi sono venuti lì e hanno cercato un'amicizia e poi pian pianino è diventata come per modo di dire una casa sociale, non ufficiale, privata. Sono venuti lì, hanno preso un caffè e hanno detto domani io mi taglio la gola. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.